Episodio 1 dei difensori. Ieri era uscito l'episodio dei centrocampisti, oggi andiamo sui difensori. Se mi vedete con la stessa camicia dell'altro video è perché semplicemente li sto registrando tutti insieme così da potermi organizzare e da fare uscire tutti i video, uno almeno un video al giorno, così da non lasciare i buchi sul canale. Per quanto riguarda il video di oggi, per l'appunto, andiamo ai difensori. Difensori, vi voglio dire come ho ragionato, come in realtà ragionano praticamente tutti quelli che fanno il pantacalcio. Ovviamente ho dato priorità, importanza, sia ai difensori ma bensì ai terzini, addirittura, ancora di più, non solo ai terzini, ma ai terzini, tra virgolette, che giocano sugli esterni, soprattutto nei moduli 3-5-2, 3-4-2-1, 3-4-3, comunque tutti i giocatori che vengono considerati difensori su pantacalcio, su pantacazzetta, non so dove lo fate, ma giocano terzini o esterni a tutta fascia, che ovviamente per forza di cose porterò più bonus. Primo giocatore di questo video. Doig, classe 2002, giocatore molto interessante, giocatore che ha già dimostrato, ha fatto vedere anche qualcosa di interessante, ripeto, nella passata stagione, se dovesse rimanere al Verona, secondo me è un ottimo giocatore su cui puntarci, un po' meno se dovesse essere acquistato da qualche altra squadra dove magari, no, è già in dubbio la titolarità, ma a Verona io penso che sia il titolare in Amovibia, anche perché Verona non ha chissà che grande squadra, quindi fondamentalmente avere un giocatore come Doig per il Verona è un lusso, perché secondo me è un ottimo giocatore, uno dei migliori uomini che può disporre Verona, e ovviamente è un giocatore su cui sicuramente farà affidamento, e penso che è un ottimo giocatore che viene sicuramente fatto partire come titolare, ma non so, lo ripeto, giocando con la difesa 3, giocando esterno a tutta fascia, può portare sicuramente abbastanza bonus, sia da gol che di assist. Secondo difensore di questo video, ovviamente non li ho messi tutti insieme, in terzini o all'esterni, ho voluto variare un pochettino, e quindi andiamo a un vero difensore centrale, andiamo a Roma, vi parlo di Smalling, giocatore che ha anche il vizietto del gol, perché è un giocatore che secondo me, anzi senza il secondo me, un giocatore che ha i 2, 3, 4 gol all'anno li fa sempre, perché è alto più di 1,90, ottimo tempismo aereo, molti gol di testa. Oltretutto è il, probabilmente, il miglior difensore che ha la Roma a disposizione, bisogna vedere questo indica come sarà, infatti io non lo metto tra i difensori top, ad esempio indica, già ve lo spoilerò, perché è un giocatore che non lo conosco, sinceramente non l'ho visto bene al Francoforte, no, dove è che giocava? Comunque in Bundesliga, non mi ricordo dove giocava indica, forse alle Verkuse, vabbè, comunque in una di quelle squadre lì, ma non mi ricordo come giocava, l'ho visto veramente pochissimo, quindi mi posso invece dire che Smalling, secondo me, è il miglior difensore della Roma, a mani basse, media voto sicuramente quasi sempre sopra il 6, qualche volta fa anche gol, titolarità, a meno che non si infortuni, non lo mette nessuno in discussione. Difensore che nella passata stagione ho preso, devo dire ho fatto dei bei acchiappi nella passata stagione, Posh del Bologna, giocatore che sinceramente l'avevo preso con molte meno speranze che poi in realtà di quello che ha dimostrato, perché, se non mi sbaglio, è stato il difensore con più gol in Serie A, 6 gol, ha fatto gol di testa, ha fatto soprattutto molti gol non di testa, ma anche facendo proprio dei bei gol, ed è, secondo me, uno dei migliori difensori, soprattutto dal punto di vista del fantacalcio, perché porta molti bonus, perché è un difensore che fa 5-6 gol, ovviamente non bisogna farsi condizionare troppo dalla passata stagione, perché potrebbe tranquillamente non rifare i stessi gol, ma se bisogna puntare su qualcuno che ha la titolarità, ed è titolare, che comunque gioca in una scuola propositiva, il Bologna di Tiago Motto è una scuola propositiva, e ha fatto 6 gol nella passata stagione, ora, magari non ne fa di nuovo 6, ma anche che ne facesse, secondo me, anche la metà, secondo me è abbastanza un lusso per un difensore centrale puro. Passiamo nuovamente a un terzino, questa volta non un terzino a tutta faccia, ma un terzino puro, difesa 4, parlo del Napoli, Di Lorenzo, il capitano, giocatore che, secondo me, anzi, senza secondo me, è uno dei migliori terzini della Serie A, non a caso ha vinto lo scudetto anche grazie a lui, ovviamente, Napoli sicuramente non sarà stato l'artefice numero 1, ma è stato sicuramente uno dei migliori uomini che ha potuto avere spalletti nella passata stagione, ed è un giocatore che, anche lui, ha il vizietto del gol, perché è sì un terzino, ma gol di testa, gol in inserimento, ottimo gol, non lo ricordo ancora contro l'Inter, da interista, me lo ricordo, gol bellissimo contro l'Inter, ed è un gioco, appunto, come dicevo, è un terzino che porta numerosi bonus, quindi, secondo me, è un giocatore che non solo porta numerosi bonus, è il capitano del Napoli, è il titolare del Napoli, non ha un vero vice che può, secondo me, impastidirlo, e, oltretutto, è un giocatore integro, senza troppi infortuni, non vorrei gufartgliela, ma è un giocatore integro, quindi è uno di quei giocatori che, se sta bene, gioca sempre, quindi, sicuramente, Di Lorenzo è il giocatore su cui puntare, se si può, al fantacalcio. E direi di andare con il top di questo video, ce ne sono pochi in serie, anzi, ce ne sono parecchi, devo dire, di terzini barra giocatori che giocano sulla fascia, anche perché in serie a quasi tutte le squadre giocano con la difesa a tre e gli esterni, quindi ci sono tantissimi terzini che, effettivamente, giocano in questo tipo di modo, e ce ne sono appunto vari. Secondo me, il migliore ad oggi è Di Marco, ovviamente, direi anche. L'anno scorso è venuta, forse dalla sua miglior stagione in carriera e probabilmente è il momento di svolta dalla sua carriera, però, appunto, l'ha passata stagione. E deve dimostrare, secondo me, che l'ha passata stagione, non dico che sia stato un caso, ma che non sia un livello troppo alto per i suoi standard, deve cercare, ovviamente, di riconfermarsi, e secondo me ha tutto per riconfermarsi, l'Inter gioca in maniera molto offensiva. Forse, ecco, se devo trovare l'unica pecca in Di Marco, non è tanto in Di Marco in sé per sé, e il fatto è che al sessantissimo spesso i perinti riesce, e l'Inter ha comprato a carrozza gusto, quindi potrebbe non giocare, magari, in 90 minuti, o magari riuscire a portare il bonus in tempo in quei 60 minuti, però sicuramente Di Marco, penso io, sia il titolare inamovibile dell'Inter, è il giocatore che nello scorso ha gol, assist, batte le punizioni, batte i piazzati, secondo me il meglio che la Serie A può offrire sulla fascia sinistra, ovviamente insieme a Teo Hernández, ovviamente, ma probabilmente, secondo me, a livello di fantacalcio, Di Marco è anche superiore a Teo Hernández, perché porta molto semplicemente più bonus, perché gioca in una proporzione di campo più offensiva, e in una squadra che gioca tantissimo sulle fasce, e Di Marco è il terminale offensivo, uno dei terminali offensivi più utilizzati da Enzaghi. Direi che anche questo video può terminare qui, ci vediamo domani sempre con un altro video riguardante fantacalcio, o magari di calcio vero, probabilmente potrebbero anche uscire due video al giorno, per riuscire anche a ottimizzare i tempi, perché come ho detto già in precedenza, voglio far uscire i video almeno uno al giorno, e se no anche due, tanto nessuno me lo vieta. E quindi ci vediamo ad un prossimo video, iscrivetevi, lasciate un like, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi giocatori, ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao!